Aumentano i costi, salgono le bollette, esplodono le materie prime e anche la filiera lattiero-casearia dell'Asia Godop rischia di finire in ginocchio. Un intero mondo fatto da migliaia di allevatori, produttori e addetti stritolati fra le spese e il mancato riconoscimento dei costi aggiuntivi da parte della grande distribuzione organizzata. È una situazione drammatica perché le nostre aziende agricole, produttrici di latte e i nostri caseifici che producono il formaggio Asia Godop hanno dei costi spaventosi che in quest'ultimo anno si sono amplificati. Non sono solo le bollette quindi a incidere sulla filiera del settore. Per l'alimentazione delle bovine si spende almeno il 50-60% in più e anche per l'autoproduzione dei foraggi, mentre per la produzione di formaggio le bollette ultime che sono arrivate sono veramente spaventose. Ecco che cosa cambierà per chi produce formaggio. Nell'arco del 2022 avremmo altri 6-7 centesimi di costi aggiuntivi, quindi un chilo di formaggio a noi costerà produrlo circa un euro in più. Allo stesso tempo gli allevatori per compensare i costi dovrebbero avere almeno 12 centesimi in più per ogni litro di latte prodotto. E qui entra in ballo la grande distribuzione. Noi chiediamo un atto di responsabilità da parte della grande distribuzione organizzata perché c'è questo fenomeno inflattivo importante e quindi non è giusto, troviamo che non sia assolutamente giusto, che l'onere di questa inflazione importante sia a carico, sia sulle spalle, solo degli allevamenti e dei casifici. La speranza è che questa situazione sia legata solo a una congiuntura e che sia quindi temporanea, ma gli indicatori fanno pensare diversamente. Abbiamo dei dati, soprattutto per quel che riguarda altre filiere estere, che ci portano a pensare che la situazione si protragga per molto tempo.